La sensazione è che Massimiliano Allegri vada ormai verso la conferma, come stiamo raccontando in questi giorni, del sistema che ormai rappresenta la rivoluzione tattica della Juve da tre partite, Coppa Italia contro il Milan compresa, cioè la linea A4 davanti a Gigi Buffon e poi il 2-3-1, dunque un modulo in cui tutti i cinque big o se vogliamo gli attaccanti più pianice e quadrado sono dentro dall'inizio. Il ballottaggio che ci teniamo ancora, che probabilmente ci trascineremo fino a poche ore dalla sfida, è quello che riguarda il ruolo accanto a Miralem Pjanic, quello davanti alla difesa, tra Chedira e Marchisio. Marchisio che ha superato l'affaticamento muscolare, certo non può essere al 100% dell'intensità, estendo stato fermo per una decina di giorni, o meglio allenandosi ma non giocando, e dunque questo ballottaggio è ancora aperto tra Chedira e Marchisio. Poi nell'altra parte invece la notizia è che è a forte rischio Barzagli, perché Barzagli oggi non si è allenato, non è qui a Vinovo, problema di febbre, leggera febbre, dunque a questo punto si va verso una formazione con Licksteiner sulla fascia destra. Ma ripetiamo, c'è ancora la giornata di domani, ma in questo momento diamo Barzagli fortemente a rischio per la sfida. C'è il CT dell'Argentina Bausa che questa mattina è venuto qui per parlare un po' con i giocatori dell'Inter, soprattutto gli argentini, ce ne sono tanti, anche chi non gioca più come Samuele, soprattutto il vicepresidente Javier Zanetti, che l'ho accolto questa mattina intorno alle 9.30. Una bella chiacchierata, insomma, utile per parlare, confrontarsi, conoscere anche chi magari non aveva avuto modo di conoscere nelle convocazioni precedenti. Quindi Bausa, che poi ha assistito all'allenamento, che è iniziato alle 11, chiaramente non filtra nulla di quello che il CT dell'Argentina ha detto a Mauro Icardi, ma io credo che per i toni che ci sono stati, anche l'atteggiamento, insomma, io credo che se Icardi continuerà a far bene, probabilmente già nelle prossime convocazioni potrà rientrare, no? Tra quelli che possono dar fastidio lì davanti, perché ci sono delle girarchie, sono chiare, però insomma, Icardi, i numeri parlano per Icardi. Per quanto riguarda l'allenamento, non ha detto tantissimo, nel senso che Piola evidentemente ha le idee chiare, sta tenendo un pochino tutti sulla corda, ma la sensazione è che si vada su una conferma al sistema di gioco 4-2-3-1 e che voglia giocarsela davvero con tre giocatori offensivi e in più la presenza di Brozovic e Giovo Mario, ma non dobbiamo scartare anche l'ipotesi che alla fine possa giocare anche con dobbia. Per quanto riguarda il resto della giornata, tra poco, insomma, le due, ci sarà la conferenza attesa di Stefano Pioli. Eh sì, è così, Evra ovviamente non ci sarà, buongiorno Davinovo, allenamento che sta terminando in questi minuti, Evra è arrivato da Marsiglia per salutare i compagni, i rapporti idilieci possiamo dire con tutti per Evra che è stato accolto veramente a braccia aperte dai compagni. Poi il campo però, intanto il modulo sembra sicuro 4-2-3-1, qui non ci sono dubbi, il modulo a 5 stelle non si tocca, i dubbi erano in difesa, dico erano perché Barzagli ha avuto un attacco febbrile, quindi non dovrà essere della partita, giocherà Licksteiner sulla destra nel 4-2-3-1. L'altro dubbio, a centrocampo, Marchisio sta bene, si è allenato regolarmente, tornerà a tre titolari, la sensazione che non si toccherà la formazione che ha battuto Lazio e Sassuolo in campionato e Milan in Coppa Italia, quindi ancora Pjanic e Chedira, lì davanti alla difesa, Marchisio comunque scalpita, fino all'ultimo ovviamente proverà a ritagliarsi lo spazio, Allegri domani in conferenza. Forse chiarerà i dubbi, è tutto Davinovo. Mauri Cardi non ha bisogno di stimoli in più quando vede la Juventus, ma vedremo che effetto gli farà la chiacchierata che ha fatto con il CT dell'Argentina Bausa questa mattina, ospite ad Appiano Gentile, accompagnato da Vierzanetti, ha parlato con lui, ha parlato con Banega e sarà ospite naturalmente domenica sera allo Stadium per il duello Higuain-Icardi. Una sfida nella sfida, Pioli che non ha mai battuto la Juventus e Allegri, ha ancora qualche dubbio di formazione, allenamento finito da poco, si va verso il 4-2-3-1 tipo. Vediamo con Andanovic in porta, poi D'Ambrosio a destra, la coppia centrale difensiva dovrebbe essere formata da Miranda, anche se è stato alternato con Murillo e Medel, con la conferma di Ansaldi sulla sinistra. A centrocampo ritorna Gagliardini con Brozovic e poi linea 3 formata da Candreva, Joao Mario e Perisic, naturalmente dietro a Icardi, anche se c'è qualche possibilità di giocare anche con dubbia, vedremo poi nella rifinitura di domani. Parliamo di Juve-Inter, cominciamo dai due allenatori Matteo, perché sono davvero molto curioso di questa sfida, nel senso che al di là di fare un confronto, metterli a confronto, Allegri è riuscito anche quest'anno Matteo a ridare motivazioni ad un gruppo con questo 4-2-3-1, cambiando il modulo e dando motivazione ai suoi campioni. Io direi che lui è riuscito a cambiare e a cambiarsi, per l'ennesima volta ha cambiato abito Massimiliano Allegri e questo credo sia un po' il segno che lo contraddistingue nella sua carriera, cioè la capacità di mutare schema tattico, modo di gioco e anche modulo di gioco, diciamo in corso d'opera. L'aveva fatto ovviamente ai tempi del Milan, l'ha fatto alla Juventus quando ha deciso di tornare alla difesa 4 dopo che era stato costruito i tre scudetti sulla difesa 3, lo fa oggi con questa soluzione. Tra l'altro aggiungo, è Allegri in questo, probabilmente è il più bravo, è abilissimo nel cambiare, è abilissimo nel cambiare in partita ed è molto abile nel cambiare concettualmente la squadra. Oggi la Juve non solo è cambiato il modulo, ma direi che sostanzialmente è cambiato anche il modo di giocare, ne abbiamo parlato parecchio in questi giorni, sulle differenze anche attraverso gli Sky Tech abbiamo fatto vedere. Cioè è una Juve che sa stare più bassa e che guadagna dal punto di vista della profondità. E ha responsabilizzato i suoi campioni Matteo, mettendoli tutti in campo. Ha responsabilizzato, ma credo che per lui questo sia stato l'ennesima, come potete dire, proprio sua personale prova di maturità. Se oggi la capacità di cambiare, la versatilità di un allenatore è l'elemento più importante per un allenatore, cioè cambiare modulo in corso di gara, saper leggere la partita, cambiare ovviamente anche in corso di settimana. E tutto questo poi ne consegue, ovviamente anche la responsabilizzazione dei giocatori. Se questo è il requisito oggi per essere grandi allenatori, quindi un allenatore di respiro internazionale, io credo che oggi abbia preso la patente Allegri per quell'ultimo salto. Oggi Allegri ha fatto un salto, è passato da allenatore di grande squadra italiana, come ha dimostrato, a allenatore internazionale. Cioè è un allenatore che se tu domani lo mandi in Premier o in un altro campionato è in grado, io credo, di trovare la soluzione perché dimostra di avere grande flessibilità, grande duttilità e grande capacità di lettura. Lui dalla panchina è uno che nei 90 minuti la legge benissimo la gara, i cambi, la capacità anche di gestire, di vestirsi, di vestire proprio la squadra in maniera diversa a seconda delle esigenze e delle necessità. Cioè è difficile che non la veda la partita, lui la vede benissimo dalla panchina. In linea generale è un allenatore che si sa cambiare e sa rinnovare. Questo credo che sia un elemento per lui fondantale, è un ulteriore salto. Facciamo un esempio su tutti, anche la gestione di Dybala, che si è arrabbiato perché se andiamo a vedere i numeri Dybala viene sempre sostituito, a volte nei minuti finali oppure no. Allegri è maestro nella gestione, come dire, anche naturalmente di un talento, di un ragazzo giovane come Paolo Dybala. Arriviamo a Stefano Pioli, qui i meriti sono evidenti, stanno nelle vittorie consecutive, stanno nell'aver risollevato l'Inter. La domanda che ti faccio Matteo è, fossi in Pioli andresti su un campo dove la Juve vince da 27-28 partite consecutive a giocare a specchio col 4-2-3-1, a giocartela? Sì, perché credo che in questo... Io suppongo di sì, la logica mi spinge a dire questo, cioè perché deve cambiare in questo momento una sicurezza che ha acquisito? Cioè l'Inter oggi ha identità tattica, io credo che lui abbia fatto un lavoro di grandissima pulizia Stefano Pioli. Cioè ha dato finalmente, ha messo in ordine la squadra, è ordinato lui, lo è nell'aspetto, lo è mentalmente, credo proprio come persona, e lo trasmette alla squadra l'ordine. Quindi pulizia tattica. L'Inter oggi ha una sua identità di gioco, ha delle sue idee, è riuscito tra l'altro con questa soluzione a valorizzare molti giocatori. Lui, anche questo abbia detto più volte, non c'è più una dipendenza totale e unica dai Cardi, ma oggi abbiamo la valorizzazione di Peric, devo dire di Candreva, sul quale c'erano logicamente dei dubbi visto il pregresso che c'era stato alla Lazio, Joao Mario che determina, Gagliardini che entra titolare in questa squadra e praticamente da subito ne diventa titolare inamovibile, la rivalorizzazione di Brozovic, il coraggio per esempio sulla scelta di Medel. Cioè ha fatto delle scelte. Quello che secondo me ha fatto Pioli oggi, l'altro ha fatto un salto a livello internazionale, Allegri, lui l'ha fatto a livello nazionale di passare da allenatore bravo, bravissimo in alcune piazze, a essere pronto per giocarsi qualcosa di decisivo. Cioè secondo me è questo il bazzo che ha fatto lui. Lui era maestro Pioli, ho visto parecchio della sua carriera, molte volte anche dal vivo, ho avuto Bologna per stare a vederlo. Lui era bravissimo a giocare sulla squadra avversaria, bravissimo. A preparare le partite, a mettere in grande difficoltà, ricorderai tutti i problemi che ebbe Mazzari ai tempi del Napoli, mi ricordo di Bologna-Roma in cui incastrò in maniera quasi perfetta la squadra perché lavorava sulle debolezze. Cioè era perfetta espressione Pioli di quello che è la scuola italiana dei nostri allenatori. Quindi la capacità, soprattutto in provincia, ne potrei qui citare tantissimi, Guidolini e altri allenatori, di giocare sull'avversario. Lui in questo era molto abile. Oggi non gli poteva più bastare. Cioè doveva costruire un'identità di gioco per una squadra che incomincia a pensarsi in grande. Perché quest'Inter si pensa in grande in queste sette partite, sette vittorie. Ricordo che l'Inter ha segnato 16 gol, ne ha subite appena tre. Se andiamo a vedere le ultime sette partite, chiaro ha fatto salvo il calendario, magari non erano gli avversari più difficili quelli che ha affrontato, ma la risposta che ci arriva è che la distanza tra Inter e Juve si è comunque assottigliata, si è accorciata tantissimo. Inter è una squadra che deve essere rispettata, ma sappiamo che siamo giocati per venire. Io credo che, independenemente da sequenza di vittorie, siamo focati nella vittoria. Sappiamo che sarà un gioco difficile, che sarà un gioco duro, ma sappiamo fare di tutto per venire, per conquistare più tre punti, per cada volta avere più clarezza del titolo. È un giocatore forte, che deve essere preparato perché a qualche momento può fare gol. Quindi, tutti già conosciamo Ricard e sappiamo che abbiamo che stare attenti. E come tutto centroavante, la caratteristica è che se ha una opportunità, gli fanno gol. Quindi, abbiamo che stare attenti dal inizio fino al fine. Io credo che il Higuaín è un giocatore intelligente e si movimenta molto bene. Non è un giocatore, un centroavante che è parato, ma si movimenta bene e sa leggere le giocazioni. Questo è stato la mia decisione. È chiaro che ora ho molto spettato per la Juventus, perché è un giocatore che ha fatto tutto iniziato per me vedere. E ho parlato con loro già già da alcuni anni. Ma alla fine, ho deciso di arrivare a Tianjin. Non è stata una decisione veramente facile, ma è un giocatore che, come ho detto, che mi ha spettato molto. E io ne voglio solo di buonare. Io lo so, e non ne voglio mentire. C'è vero che l'aspetto finanziario ha stato importante nella mia decisione, è chiaro. Non, non sono venuto qui non solo per prendere l'argento e essere in vacanza. Io penso che il club è ambito, abbiamo un presidente ambito che vuole formare una grande squadra. e fare qualcosa di bene nel campionato e la Coupe. E'essere di qualificare per una place per la Ligua dei Champions d'Asia. E' spero di far crescere l'equipe con l'aide dei miei co-equipi. E anche, grazie a l'arrivata di Pato e di altri giocatori, ci saranno arrivare a ottenere i nostri obiettivi. Adesso, è stato un dei migliori dei difensi del mondo. È stato un grande giocatore. Io penso che qui ci si apprende molto tacticamente. Le campionato sono molto intensivo. Quindi abbiamo una chance, come giocatore, di avere qualcuno come Fabio Cannavaro, come coach. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.